Se questo video supera i 7000 like, vedrete un confronto Mystery Box da 10€ vs 100€ Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gameray E qui è Frenchie Dreams Bentornati finalmente in un nuovissimo unboxing delle Mystery Box Come ogni domenica, visto che da come sapete Dragon Ball F per ora è in pausa Poiché stiamo aspettando l'arrivo della quarta stagione Prossimamente arriverà qua sul mio canale ogni domenica Ma nel frattempo, in questo giorno, ci saranno le Mystery Box Non solo di Dragon Ball, come oggi e in precedenza Ma poi ci saranno Mystery Box di ogni tipo Di anime e manga, magari di film, dei supereroi, di qualsiasi altra cosa Possa venirmi in mente, perché potrebbe essere una bella serie da fare qua sul canale Ma oggi abbiamo un vero confronto Francia, illustraci Abbiamo Mystery Box da 5€ e Mystery Box da 50€ Quale sarà la migliore? Allora, non è detto che qualcosa che costi di più sia meglio Assolutamente no, non è mai stato così nella vita Vabbè, dipende, ma non è che Però, in ogni caso, ragazzi, mi sono accaparrato io la cosa che costa di più Tra l'altro, c'è da dire L'ho acquistato io Esatto, l'ha acquistata lei, quella che costa 50€ circa Mentre invece questa l'ho acquistata io Quindi l'uno sa cosa c'è nella Mystery Box dell'altro E l'ha incartato anche lui, guardate qui Si ragazzi, ma io Si sta aprendo, guardate No, non vedere che cos'è Ma ho visto che cos'è, si sta aprendo Ragazzi, io i pacchi non li so fare Non sono un impacchettatore professionista Cioè, invece guardate il mio quanto è carino Allora, devo dire ai ragazzi che il pacco è stato fatto molto molto bene Quindi ragazzi, se volete altre Mystery Box sul mio canale Mi raccomando, spoliciate al massimo Potremmo fare altri confronti molto più costosi come sempre Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Perché altrimenti vi perderete tutte le Mystery Box Vi siete magari persi il video di ieri in compagnia di Francesca Con le ragazze in bichini, recuperatelo Finalmente ho riaperto il mio secondo canale Lì ci saranno un botto di unboxing Due, tre volte a settimana minimo Siamo anche su Twitch Link anche in questo caso in descrizione E poi c'è la maglietta Vero Sayan Che può essere un ottimo regalo di Natale Ordinate la il prima possibile Perché poi potreste riceverla dopo Natale Ed è un peccato, sbrigatevi Un po' di chiacchiere iniziali Purtroppo le facciamo sempre, lo so Ma sono comunicazioni importanti Io direi assolutamente di iniziare Francesca, chi vuole iniziare? Inizi tu? Eh, a me già hai aperto No, però devi strappare Si strappa, non è che lo apri pian piano Devi strappare Sono carina e coccolosa Sono solo... Mi senti? Non strappare troppo Vacci piano È qualcosa che si strappa Eh sì, è qualcosa che si strappa Francia, vacci piano Allora, passando la box Potrei dire... Che poi questa non è una vera box Nel tuo caso è più Una... Un mystery packet Che ne so Nel mio caso è una box Si sente che è una scatola A te, vai, vai È qualcosa di morbidoso Sentite? Allora Come sentite, Francesca? Sono abituata a capire il mio canale Visitate il canale di Francesca Va, sto video è uno spam continuo Uno, due Oh Eh, ragazzi Sul serio? Sì, sul serio Fallo vedere in camera che cos'è Il primo numero di Dragon Ball E qualcuno potrebbe dirmi Joseph, ma tu ce l'hai già Ovvio che io ce l'ho già È Francesca che non ce l'ha Ragazzi Finalmente Francesca Può leggere Dragon Ball Almeno il primo numero E ti posso dire una cosa Non è assolutamente Da sottovalutare Fallo vedere in camera Che te lo vedi tu Stavo vedendo qualche Oh, non fare troppi spoiler Però Ragazzi Sì, ho capito Ma considera che Qua all'interno ci sono Un botto di episodi Dell'anime Perché come sapete I manga sono fatti così, no? Perché ho regalato a Francesca Il primo numero di Dragon Ball Perché Per quanto noi amiamo Dragon Ball Z Super Ma le origini Non si dimenticano Quindi Devi vedere Goku Quando inizia La propria storia Da bambino 4 euro e qualcosa 4 euro e vendi Non siamo sui 5 euro Ma forse recuperiamo qui Potevi acquistare 80 centesimi di Goliador Vabbè ragazzi Non mi è venuto in mente Ho preso da Amazon Non è che Tra l'altro Aspetta Su Amazon Può essere pure che in sconto Quindi vi lascio il link Di Amazon In descrizione E li potete andarlo A recuperare Perché ragazzi Se conoscete Super Z Ma non avete letto Il manga O almeno Non sapete la storia Di Goku Da bambino Ora tocca a me Ok vai Posso andare ad aprirlo Me lo permetti Mi è concesso Vai Vado di cattiveria Puoi andare di cattiveria 3, 2, 1 E sbam È una E stage figure Oh ragazzi Bellissimo Bellissimo Ed è Goku Nella sua Forma base Questo credo Che come prezzo Stia più o meno Sui 50 euro Qualcosa in più Qualcosa in meno Ma di poco Guarda Mi prendi così Alla sprovvista Quindi grazie Quindi ragazzi ci sta Molto molto figo Io questo l'avevo visto Su Amazon Tu l'hai preso Dove l'hai preso Non te lo dico mica Vabbè Comunque di sicuro Ci sarà su Amazon Il link anche in questo caso Ve lo lascio in descrizione Perché ci sarà di sicuro Il personaggio Di per sé Come sguardo base Ne ha uno Molto sorridente Quindi il Goku Che tutti conosciamo Sempre Esatto Sempre di buon umore Però da come vedete Ha non solo diverse mani Ma anche altri visi Un viso Un po' più sospettoso Uno più serio Uno più arrabbiato Ha a disposizione Anche diverse mani In modo tale Da poter fare la sua Super Kamehameha O anche una Kamehameha Di base Quindi ragazzi Personaggio davvero Molto molto bello Io vi ricordo però Che è chiaro Ci saranno altre Mystery Box Molto presto Questo è stato Un appuntamento Molto breve Perché Unboxing di Mystery Box Da 5 euro Contro 50 euro Non potevamo Sbizzarrirci Come al solito Ultimamente C'è qualcuno Che mi scrive Joseph Ma butti tutti sti soldi Ragazzi Per me È un investimento Per il canale Cioè magari Che ne so C'è un panettiere Che compra un nuovo forno Per Gli ingredienti Per fare il pane Per fare meglio il pane Io compro Tutte queste cose Che poi tra l'altro Mi restano O posso rivendere Per fare questi video Perché ragazzi YouTube È parte del mio lavoro So che è strano Considerare Acquisti di questo tipo Investimento In questo caso L'ha fatto Francesca Quindi meglio ancora Però Effettivamente Ragazzi miei È un investimento Per il mio canale Perché vi mostro cose Creo un nuovo contenuto E poi volendo Posso rivendere Magari qualcosina In modo tale Da rientrare Nelle spese Questo è un regalo Ovviamente non lo rivendo Altrimenti Francesca Mi strangola Però è per farvi capire Un attimino il concetto Mystery Box da 50 Contro quella da 5 Qual è meglio? Meglio il manga O un action figure di Goku? Tocca a voi Scrivercelo qui sotto Nei commenti Attendiamo un po' Il vostro Non so Il vostro risponso Quindi ragazzi miei Settimana prossima Prossima domenica Nuove mystery box Mi raccomando Iscrivetevi ora Al mio canale Iscrivetevi al canale Di Francesca Cliccate qui Nella zona centrale Per vedere altri video E alla prossima Ciao 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 Grazie.